Iscrivetevi al canale e metteteci un like, suonate la campanella e taggateci su Instagram. Vi voglio bene, ciao! Ciao a tutti, bentornati sul canale. Ecco qua il video spacchettamento. Questo è una collaborazione col sito Do It You, li lascerò poi sotto nell'info box il link. Se vi interessa c'è anche un 35% di sconto con il mio codice raffaella35. Avrete un 35% di sconto su tutto il catalogo, anche sui prodotti già scontati, per cui veramente andate a fare un giro, a vedere su questo sito, perché hanno tantissime cose per le creative, per chi crea gioielli, ma non solo per chi fa gioielli e bijoux, un po' per tutti, insomma, per tutte le arti manuali, diciamo. Allora, adesso vi faccio vedere cosa ho ordinato. Allora, ho ordinato la resina UV, questa è della reschimica, sono 60 grammi, così. E ho preso questa trasparente, perché poi ci sono i colori per poterle colorare. Poi ho preso appunto il colore, questo è blu, io ho preso i colori coprenti, perché ci sono anche quelli effetto vetro. Infatti andate davvero a vedere sul sito, perché ne vale la pena, a parte che i prezzi sono ottimi. Poi hanno spesso degli sconti, a cui appunto potete applicare ancora il mio sconto del 35%, per cui ne vale davvero la pena e nel giro di pochi giorni vi arriva la roba, perché a me è arrivata in due, tre giorni al massimo. E hanno anche il numero WhatsApp, quindi sono davvero disponibilissime le ragazze, gentilissime. E niente, io ve lo straconsiglio veramente per i vostri acquisti. Allora ho preso questa blu, poi ho preso anche il colore bianco, eccolo qua, sempre coprente, perché io voglio fare un video tutorial, voglio farvi vedere come si possono rivestire, diciamo, i charms. Infatti io ho ordinato i charms, vedete questi, perché voglio smaltarli, non rivestirli, scusate, voglio smaltarli e quindi vi faccio vedere con la resina UV e la lampada UV, quella che io uso poi per le unghiette, come si possono smaltare i charms. Perché io ho notato che quando mi servono smaltati non trovo mai il colore che mi piace, il colore che mi serve al momento, che mi richiede alla cliente. Mentre con questa, con questa resina si possono rivestire, ricoprire e li possiamo personalizzare. Queste sono le lune, queste sono, vediamo, questo è il codice. Vediamo se mette a fuoco. Facciamo così. Aiuto. Allora, charms, moon, placcato oro. Poi, ho ordinato anche questo stampo, perché già che ci siamo proviamo a fare delle, questo per fare delle pietre quadrate. Questo è il codice, è uno stampo in silicone. Infatti è stampo, silicone, perl, cube, small e medium, perché ci sono dentro. Vediamo se riesco a aprirlo con voi. Allora, eccoli qua, guardate che bello. Cioè qua, praticamente esce già la perla, perché esce già col buco. Così, e questo andremo a provarlo insieme. Già che ci siamo, facciamo addirittura tutte e due le prove, sia quello per smaltare i charms, che questo. Eccoli qua. Allora, in realtà, per me la resina è la prima volta, che, per me è la prima volta, e non ho mai utilizzato la resina, era da parecchia perché volevo provarla. E ho avuto questa occasione, appunto, di avere questa collaborazione con questo sito, Conduitu. Così almeno mi hanno dato anche un codice sconto per voi, come vi dicevo. Quindi queste cose le testeremo insieme, anche come verranno, appunto, i charms smaltati. Speriamo che venga una cosa fatta bene, comunque ci proveremo. E poi ho preso anche i charms a forma di cuoricino, perché ovviamente, secondo me, da smaltare sono carinissimi. Questo è il codice. E sono qua, uno, due, tre, quattro, cinque pezzi. Eccoli qua. E poi, in omaggio, cosa mi hanno mandato? Che carini, c'è anche l'omaggio. Ma che belle queste qua sono. Le stelline in resina, le trovate sempre sul loro sito, con le monachelle qua, per fare un paio di orecchini carini. Mi farò gli orecchini per me, è troppo carini. Allora, intanto, questo è tutto quello che c'era nel pacco. Allora, eccoli qua. Non vedo l'ora di farlo, e noi ci vediamo tra poco con il video su queste creazioni. Allora, iniziamo questo video tutorial. Tutorial scoperta, diciamo, perché anche per me è la prima volta, per cui vediamo come vengono. Se vengono bene, fantastico, sarò felicissima, perché avrò risolto il mio problema con i charms colorati. Allora, io ho già preparato qua la mia lampada, la resina, i colori, i charms. Inizierei a prenderne uno a cuoricino, vediamo. Comincerei a farne uno, vediamo come vengono. Allora, mi sono procurata un pezzettino di cartoncino, perché così non dovrò sollevare poi il cuoricino, ma lo infilerò direttamente nella lampada. Dei bicchierini di plastica per poter mescolare la resina ai colori. Dei distuzzicadenti per mescolare, poi per andare a applicare appunto la resina sul ciondolino. e vediamo cosa ne viene fuori. Allora, inizio andando a prendere la resina. Ne verserò proprio poca poca, perché vediamo. Spero che, scusatemi, ok, ne metto proprio poca, perché ce ne va pochissimo. Io inizierei col blu. Vediamo. Allora, io direi di provare a prenderlo direttamente dal tappo, perché so che ce ne vuole veramente poco di colore. Quindi proviamo. Facciamo la prova. Infatti, guardate come colora. Tantissimo. Infatti, guardate, ne è bastata proprio una puntina. Quindi, ecco, calcolate che sono prodotti che vi dureranno tantissimo. Se volete acquistarli appunto con questo 35% di sconto che vi lascio sotto nell'info box, basta che scriviate Raffaella35 e fino alla fine di luglio avrete questo sconto fantastico, perché ragazzi, anche io l'ho scoperto due e tu. Avevo già fatto un ordine, infatti, vi avevo lasciato il video e grazie a un'altra creativa appunto avevo avuto questo 35% di sconto, quindi top. Allora, mescolato, adesso vado a prendere il nostro charms e vado ad applicarlo, aspettate che vediamo se riesco a ingrandire un pochino di più. Ok, vediamo se così riusciamo un po' meglio. Allora, vado a mettere, a tenere fermo qua e andiamo ad applicarlo. Scusate, eccolo qua. Vediamo. Allora, io ho preferito comprare la resina UV perché mettendola nella lampada si solidifica subito, mentre la resina è possidica, bisogna lasciarla asciugare all'aria. Io preferisco così perché così si secca subito. Allora, e sono sicura che non mi va in giro, non mi cola tutto quanto. Allora, cerco di colorare tutto, di coprire bene, senza andare a chiudere il buco là, che è quello che poi mi servirà per appendere i miei charms. Allora, ok, direi che ci siamo. Adesso, un attimo solo. Allora, passo velocemente con la fiamma dell'accendino perché serve per andare a far togliere le eventuali bollicine e andiamo a inserire nella nostra lampada per catalizzare. Allora, scusate che vi... E aspettiamo un attimo, vedremo insieme come viene. Eccola qua che ha finito, adesso andiamo a vedere insieme. Allora, scusate, ero convinta di aver... che stavo tirando fuori praticamente il cuoricino da sotto, invece ho spento il video. Allora, praticamente appiccica ancora un pochino, quindi io prendo un po' di solvente, quello che uso per le unghie. Bene, aspettate perché non si vede. Allora, perché a volte anche lo smalto per le unghie, quelle semipermanente, a gel e così lasciano un po' di dispersione. Aspettate che allontano un attimino, se no... Ok. Vado a passarlo. Infatti perfetto. Guardate, bellissimo, mi piace un sacco. Dal telefono non rende la cosa. Scusate, ma aveva bussato mia mamma. Comunque, cioè, veramente, da qua non rendono, ma ve li farò vedere poi montati sulle collanine, braccialette, secondo me sono bellissimi. Adesso voglio provare a fare anche la luna e magari le faremo anche negli altri colori, anche in bianco. Allora, questa vado a toglierla. Andiamo a prendere la nostra luna. Io farei la luna, ne prendo due, così ne faccio una bianca e una blu. Scusate, eh. Allora, una e una due. E ancora un cuoricino. Dopo io ho diversi charms che avevo già e userò anche quelli. Li farò, proverò a smaltare anche quelli che così almeno avrò un po' di colori. E sicuramente acquisterò altri colori da due tu, perché visto che funziona la cosa. Allora, andiamo a mettere di nuovo il blu, però stavolta, opla, sulla luna, ma ne metto meno perché la luna è molto piccolina. Allora, c'è sempre il cane di mia zia che abbaia, in continuazione, sempre abbaia. Winnie! È troppo bello quel cagnolino lì. È un po' rompi perché continua a abbaiare, ma è fantastico, è troppo forte. Mi piace quando si mette lì alla rete che ci guarda. Allora, vediamo perché non vorrei mettere troppo prodotto e poi magari non si solidifica. Ok. Adesso vado a fare la stessa cosa col bianco, quindi prendo un altro bicchierino, metto ancora un goccino della nostra resina. Già così è tanta, anche perché è calcolata che durerà tantissimo, perché non ne serve proprio molta. Molta. E vado a prendere il bianco. Aspettate, scusate, ma essendo nuovo, ok. Perfetto. Prendiamo un altro stuzzicadenti pulito. E anche qua vado a prenderlo direttamente dal tappino perché tanto ne basta proprio una puntina. Ina, Ina. Guardate come colorano. Sono veramente molto pigmentati questi colori. Mamma mia. Sembra quasi perlescente. Stupendo questo bianco. Peccato che dal telefono non si veda. Allora, adesso andiamo a mettere il bianco sulla nostra luna. Aspettate che lo giro un po'. Allora. No, vabbè il bianco è bellissimo. Mamma mia. È meraviglioso questo bianco. No, bellissimo. Allora, non vi ho detto. Sulla resina c'è scritto che, scusate, che vado a coprire bene, si asciuga in due minuti il lampada. Io preferisco sempre, anche con lo smalto, fare più passate. Voglio proprio essere sicura che sia una cosa fatta bene. Allora vado un attimo a staccare. No, vabbè, guardate che bianco. Come coprente. Vediamo. Cioè. Meraviglioso. Veramente bellissimo. Anche quel blu notte lì è... Wow. Mi piace un sacco. Allora. Vediamo se riesco. Ecco. Giriamo. Che forse riesco a lavorare un po' meglio. Tu vieni qua. Ecco. Mi allungo bene sulla puntina e anche di qua. No, è bellissima. Mi piace un sacco questa resina perché per adesso sembra che non coli. E facciamo anche il cuoricino bianco. Andiamo a girare. Così riusciamo. No, vabbè, mi piacciono già. Sono stupendi. Ho trovato il modo di smaltare i miei charm. Sono felicissima. Non avete idea di quanto io sia felice. Anche perché io avevo già cercato su internet come smaltarli. Così non avevo trovato nulla. Quindi mi è venuta questa idea che poi, oh, magari, non lo so, altre creative l'hanno già fatto. Non lo so. Io non ho trovato nulla. Ho detto, boh, fammi provare. È buono. Direi che adesso vediamo come esce il bianco. Allora, andiamo a stendere bene, bene, bene. Andiamo a prendere ancora un pochino. Perché non voglio neanche che sia... Cioè, voglio che sia bello coperto, capito? Voglio che copra bene. Allora. Teniamo. Opla. Fermo. Eccoci qua. Con l'altro stuzzicadente pulito. No, vabbè. Cioè, già l'effetto se resta così è wow. Cioè, effetto wow. Non ho altro da dire. Cioè, io spero che renda anche dal telefono. Perché, ragazze... Vediamo. Ok. Vado a fare la stessa cosa di prima con il mio accendino. Per togliere eventuali bollicine bastano proprio una passata di pochi secondi. E andiamo a infornare. Sto usando questo perché la... Sto usando questo perché la mia lampada è quella che devi mettere sotto la mano al sensore. Quindi si accende. Senza sotto nulla. Non si accende. Allora direi impostiamola a 120. Metto sotto. Ci metto anche questo. Così rileva qualcosa. Vedete? No, vabbè. Sono troppo troppo felice. Veramente. Sono felicissima. Perché per adesso ha colorato bene. Cioè, tanto vado a chiudere. Sì, non sto a tenervi qua due, tre minuti quello che è. Comunque ragazzi, questi prodotti sono wow. Veramente. Dov'è il cuoricino? Bellissimo. Cioè, dal telefono non rende. Veramente non rende. È bellissimo. Se dovete smaltare i vostri charms o avete altre cose da smaltare. Questi sono il top. Mi piacciono un sacco. Adesso aspettiamo quelli là. Nel frattempo noi cosa facciamo? Anzi, facciamo che prendo questi più piccolini. Sì, dai, faccio quelli piccoli. Adesso metto dentro questo. E andiamo a fare questo. Intanto che lì si asciuga. Ok? Aspettate perché io ho sempre... Mamma, io ho fatto un danno pazzesco. Guardate. Adesso vado un attimo a pulire, aspettate. Ok, pulito. Allora, io voglio provare a fare come avevo già visto in alcuni video. Vado sempre a prendere la nostra resina. Però facciamo... Scusate, ma ho il cavalletto e purtroppo è così. Allora, provo a farne uno perché non so come viene. Quindi... Se l'ho presa benissimo, mi sto divertendo. Sembra una bambina il giorno di Santa Lucia o il giorno di Natale. Allora, facciamo che... Eccoci qua. Io ho queste cosine da metterci dentro. Queste bellissime cose che avevo già in casa. Sì, rosa, direi. E vado a prenderne alcune e proviamo a metterle dentro. No, vabbiamo, sono piccolissimi, ma che belli. Questi mini, mini cuoricini. Prendo un secondo. Una delle mie pinzette, aspettate. Allora. Vediamo, eh. E vado a mettere dentro un po' così. Però ecco, questa va fatta un po' a strati perché ho visto alcuni video e ho paura che troppo spesso, se fosse troppo spesso, lo strato non si catalizzi. Quindi, intanto li metto dentro, così poi vado a schiacciarli giù. Ok. Intanto la mia lampada l'ha finito. Vai giù. Dentro, tutti, li metto tutti. Intanto voglio vedere come viene. Provo a farne uno perché non vorrei fare danni, ragazze. Ok. Prendo. Stuzzicadenti. Andiamo un po' a inglobarlo. A inglobare questi bellissimi cuoricini nella resina. perché così si vedranno anche dall'altra parte. Vediamo. Ok. Adesso andiamo a controllare i nostri charms. Allora, eccoli qua. Intanto vado a inserire questo nella lampada. Aumentiamo a 120. E andiamo a catalizzare. Allora, anche qua stessa cosa. Vado a, siccome sento che è leggermente... Ma secondo me è colpa mia, nel senso che ci va veramente pochissimo colore. Io probabilmente, già mettendo una puntina con la resina, con così poca resina, probabilmente fa un po' più fatica ad asciugare. Però, voglio fare la stessa prova di prima. Se con il prodotto per sgrassare... Scusate, aspettate, perché se no non vedete proprio niente. Eccola qua. Andiamo a... Sì, è venuto... Allora, se non sapete cosa usare per sgrassare, ragazze, questo solvente della Sien, Senza acetone, però, mi raccomando. Va benissimo. Per togliere l'appiccicoso sia dal... La dispersione, si chiama, quella appiccicatrice che rimane sia per la resina che per quanto riguarda lo smalto, ok? Mamma no, va bene, ragazzi. Sono felicissima. No, davvero. Grazie, due e tu, per avermi... consentito di fare questa collaborazione con voi, acquisterò sicuramente anche gli altri colori. No, vabbè, sono troppo felice. Ma io sono felicissima. Adesso vado a prendere anche gli altri. Spettate un attimo, perché non mette a fuoco, eh? Allora, vediamo un attimo se così riusciamo un po' a... No, vabbè, ma è bellissimo. Non appiccica più. È stupendo. No, è venuto benissimo. No, 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 no. Qua, ragazze, ci scappa il braccialetto. No, mamma, io adoro. Adesso vado a sgrassare anche questo. Sono felicissima. No, ragazze, è approvato al 100%. Garantito. Funzionano fantastici. Sono il top. Cioè, guardate qua. Qua potete smaltarvi tutti i ciondoli che volete senza più avere problema di lo trovo, non lo trovo, perché davvero io spesso faccio fatica. No, ma è troppo bello. Sono venuti benissimo. Cioè, questi qua. Questo qua blu, se lo vede mio marito, sicuro lo vuole lui. Sia questo che... No, più la luna lui che il cuoricino. Cioè, veramente. Scusate la luce, ma qua oggi c'è un tempo bruttissimo. No, ma è meraviglioso. Cazzo ho messo il flash, vediamo. Sì. No, vedete? È bellissima. Cioè, meravigliosa questa. E se vi faccio rivedere anche gli altri... No, va bene, ma guardate, guardate. Io sono... Scusatemi, ma io sono troppo... Cioè, sono troppo casata. Guardate. Sembrano proprio quelli che si comprano già smaltati. Ma è bellissimo. Dov'è l'altro cuoricino bellissimo blu? Cioè... Meraviglioso. È bellissimo. No, sono troppo felice. Allora, spero di avervi dato una bella idea, nel senso che davvero io avevo già... Devo rifarmi le unghiette, si vede. Che avevo cercato davvero dappertutto un po' su internet, su YouTube, così non avevo trovato nulla a riguardo. Quindi sono troppo, troppo felice, felicissima, contentissima. Adesso vado a fare ancora un passaggio di qua, perché come vi dicevo, io preferisco passare una volta in più. Ok, e aspettiamo il risultato anche di quello. Allora, eccolo che ha finito. Andiamo a vedere insieme com'è. Allora, sentiamo sotto se... Sembrerebbe anche a post... No, vabbè, guardate. Li vedete tutti i cuoricini, bellissimi, sembrano sospesi nell'acqua. Adesso andiamo a fare il secondo strato. E... Ci andrò a mettere queste perline qua, bianche, così. Ma, mettiamoci quelle, dai. Allora, secondo strato. Trato è semplicissima da usare, proprio perché c'è questo beccuccio. Wow! Allora, voglio metterlo... Ok, adesso vado a chiudere. Mi raccomando, una cosa importante. Quando usate le lampade UV, non lasciate mai vicini i prodotti, perché tendono a seccarsi, mi raccomando, sempre lontani, eh. Perché io vedo che nessuno lo dice mai nei video, almeno nei video che ho guardato io, nessuno l'ha mai detto. Io l'ho scoperto. Perché facendo le unghie sono iscritta a un gruppo e mi hanno detto assolutamente di non metterci mai gli smalti e le resine vicino. Andiamo a mettere, vediamo se facciamo danni. No, vabbè. Lo vado a applicare qua sopra. Così. Andiamo a chiudere perché so già che farò dei danni. Queste boccettine me le ha chieste Mauro quando saranno finite, il mio amore. Allora, adesso vado a prendere ancora questo e vado così. Vado a aprire qua sopra perché ovviamente qua è dove ci passerà il filo. Quindi, no, vabbè, bellissima questa resina è molto densa, mi piace un sacco da lavorare. Ok, andiamo di nuovo con il nostro accendino. Tanto è silicone, questo, quindi non succede nulla. Andiamo a 12, 120 e andiamo a inserire il nostro stampo. Ok, adesso aspettiamo. Allora, finito. Allora qua è bello asciutto. Adesso andiamo a provare a staccarlo, come viene. Allora, vediamo. No, vabbè. No, vabbè. No, guardate, c'è il doppio strato. Allora, ovviamente qua vanno rifiniti un po', ma non è un problema, ma lo sapevo già perché tutte le cose con la resina. C'è già il buco per far passare il filo. Guardate i cuoricini. No, vabbè, ma io sono troppo contenta. L'unica cosa che dal telefono non si vede bene. Cioè, sembra... Non sembra affatto bene. Qua secondo me, vediamo se riesco ad aprirlo, perché qua per me è andata colpa mia, eh. Perché ci ho messo sulla resina, l'ho messa sopra. Ma secondo me qua riesco comunque ancora a bucare, sì. Perché qua c'è il buco perfetto. Vedete che arriva praticamente quasi in fondo. Vediamo se con lo stuzzicaventi riesco a fare qualcosa. Adesso mi faccio male. No, no, preferisco fare dopo con calma. Comunque è troppo bello, sono felicissima. Guardate questo cubetto. È bellissimo. Mi piace un sacco. Vado comunque a passarlo leggermente perché sotto appiccica leggermente. Quindi io vado sempre col mio solvente a dargli una passata veloce. No, vabbè, ma io sono troppo felice. Ma i ciondolini là, io sono felicissima. No, guardate come si è lucidato nel togliere la dispersione. Bello. Adesso vi faccio vedere, eh. Sopra ancora un po'. Guardate come è diventato più bello. No, sono troppo contenta. Niente, io vado a fare ancora qualche esperimento. E io spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo in un prossimo video. E ragazzi, io sono strafelice. Grazie ancora a Doi Tu per avermi, Oplà, inviato queste bellissime cose. Per avermi dato la possibilità di provare queste fantastiche cose. Ricordatevi che sotto nel video io vi lascio il mio codice sconto del 35% che sarà utilizzabile fino alla fine di luglio. Wow, che bello. Madonna, a me la cantina si volare. No, vabbè, ma questo bianco cosa non è? Guardatelo. È bellissimo. No, ma anche quello blu però. Bellissimi. Mi piacciono un sacco. Niente, dai ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto e possa esservi utile. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.